Non è bisogno, grazie. Oh, so benissimo che tu non l'hai mai avuto. Sarebbe immorale. Ogni volta che ti incontro tu... Io cosa? Mi sorridi o sbaglio? Io ti sorrido. Per te. Tu stai dando un sacco di cose per scontate, vero? Dici? Insomma, io non ti conosco. E anche tu non mi conosci. Non c'è nemmeno un taxi che ti sta aspettando fuori. Non ci sono cabine telefoniche nei baraggi. Ci siamo soltanto... Tu e io. Ti spaventa tutto questo? Asi.